Ciao Taylor, sei bellissima. Sei una delle poche persone che seguo, che stimo per davvero. Un bacio enorme e ti voglio bene. Ciao! Ecco appunto, come è stato detto da Alphawoman, io trovo veramente aberrante che nel 2019 ci siano persone che facciano ancora questi discorsi. Ma soprattutto questo commento è stato fatto da una ragazza. E questa cosa, devo essere onesta, mi spaventa tantissimo perché se non siamo noi le prime a darci comunque manforte, a supportarci a vicenda, ma come possiamo pensare o sperare che lo facciano gli uomini? Io penso comunque che siamo tutti liberissimi di commentare in maniera positiva o negativa un post, oppure che ognuno sia sentito di dire la propria. Ma la domanda che voglio fare io adesso al pubblico di Alphawoman, ma secondo voi è giusto comunque sentirsi in dovere di scrivere, di lanciare tutto quell'hating nei confronti di una ragazza solo perché posta una foto in bikini? Grazie per tutti i complimenti che mi state facendo sul mio cento, io inizialmente volevo coprirlo perché non mi piaceva, poi però col tempo mi piace tantissimo e comunque sono friunana, non sono friunana, quindi italiana 100%. La mia più grande paura è sicuramente quella di diventare paura. Grazie stasera a capo benedizio, a bella ghiotto. Ciao Teino, benvenuta. Ciao Teino, benvenuta.